La profezia di Cassandra è tra i protagonisti del Padiglione Italia dedicato alle comunità resilienti alla 17esima mostra internazionale di architettura alla Biennale di Venezia. Cassandra è un innovativo strumento di supporto alla pianificazione urbana e gestione delle risorse per combattere gli effetti del cambiamento climatico, ideato e realizzato da due architetti modicani, Marc Cannata e Antonio Stornello. Cassandra prevede un'architettura sostenibile, basata su un approccio metabolico per portare l'uomo e la natura in un rapporto paritario e di rispetto e armonia. Proprio per questo il progetto Cassandra è stato selezionato per partecipare al Padiglione Italia 2021 che quest'anno avrà appunto come tema quello delle comunità resilienti. Lavoriamo da tempo, confermano Cannata e Stornello, a questa soluzione che ora si rileva perfettamente in linea con il tema della Biennale e che del resto interpreta una forte sfida per il futuro di tutte le città, in particolare quelle storiche, una sfida percepita con sempre maggiore pressione. Lo strumento ideato da due architetti è a tutti gli effetti il primo vero sistema integrato di supporto alle decisioni, pensato e realizzato per dare supporto a chi si è chiamato a pianificare con lungimiranze e visione prospettica lo sviluppo delle città. Cassandra è in grado di fornire una visione completa dell'intero ecosistema, proponendo soluzioni che portino l'ambiente urbano a diventare realmente resiliente ai cambiamenti climatici. Non solo, Cassandra utilizza strumenti di simulazione che considerano una pluralità di parametri che direttamente o indirettamente influenzano la resilienza di un ambiente urbano e la qualità della vita dei suoi abitanti, per esempio acqua, aria, energie, infrastrutture, mobilità, beni culturali e altro ancora. Si tratta pertanto dell'unico progetto che arriva alla Biennale dalla Sicilia tra 15 dei padiglioni Italia ed è l'unico nato da un'iniziativa privata con il patrocinio del comune di Modica. Cannate e Stornello hanno scelto di applicare Cassandra al centro storico di Modica perché presenta una molteplicità di caratteristiche rappresentative di un esteso campione di città storiche di piccole e medie dimensioni nelle aree del Mediterraneo, che corrono più rischi a causa dei cambiamenti climatici. Modica, spiegano Cannate e Stornello, è situata al 36esimo grado di latitudine, il parallelo che attraversa la maggior parte del Mediterraneo. È un sito del patrimonio dell'UNESCO, ma è anche una città dalla topografia complessa e dalle molteplici stratificazioni, due condizioni che combinate insieme ci hanno consentito di tornare a rivedere qual era la condizione naturale e qual è stato l'effetto degli interventi umani antichi e moderni.